Si sono concluse solo nella tarda serata di ieri le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato nel pomeriggio di ieri attorno alle 18.30 in località Mattinelle nella zona sud di Trani, a poca distanza dal mare. A prendere fuoco all'interno di un terreno sterpaglie ma anche rifiuti abbandonati, composti prevalentemente da scarti cementizi e materiale plastico. Dal rogo si è sollevata una densa colonna di fumo nero, ben visibile anche dalla strada statale 16 bis a diversi chilometri di distanza dal punto dove sono divampate le fiamme. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, una intervenuta subito e l'altra in un secondo momento con cinque mezzi a lavoro con le autobotti per spegnere le fiamme alimentate anche dal vento. Sul luogo dell'incendio erano presenti anche gli agenti della polizia locale che hanno coordinato le attività di supporto, i militari della guardia di finanza, il personale dell'ARPA impegnato a monitorare l'impatto ambientale del rogo e il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro. Le fiamme sono state definitivamente domate solo in tarda serata, intorno alle ore 21.